Infine l'ultima domanda dimostra che se la velocità iniziale V0 è inferiore a un valore limite, l'aspira non riesce a superare il magnete permanente, cioè si ferma prima, e il freno magnetico agisce come blocco, determina il valore numerico della velocità limite. Quest'immagine ci spiega quello che dobbiamo fare per risolvere questa domanda. Ricordiamo che X segnato era l'allontanamento asintotico, quindi la posizione ultima raggiunta dal vagone nell'ipotesi in cui il magnete permanente si estendesse all'infinito. Per far fermare il vagone all'interno del magnete, anzi meglio come richiesto sul bordo finale del magnete, quindi qui, dobbiamo fare in modo che questo, chiamiamolo limite asintotico di posizione, si trovi proprio a distanza L dall'inizio del magnete, cioè questo limite asintotico, cada esattamente alla fine del magnete. Allora, l'andamento dell'esponenziale crescente, che rappresenta la posizione che aumenta nel tempo del vagone, non tenderà più a schiacciarsi come prima sul valore asintotico di prima, ma si schiaccerà sul valore asintotico nuovo, che si trova alla fine del magnete. Quindi la curva non sarà più questa nera, ma sarà questa di colore rosso. In questo modo il vagone si fermerà asintoticamente alla fine del magnete e non riuscirà più a uscire. Quindi dobbiamo porre x segnato uguale a L. Quello che troveremo da questa condizione, da questa equazione, sarà che la velocità d'ingresso del vagone deve essere minore di prima. Infatti la velocità V0 di prima, 20 cm al secondo, era eccessiva e permetteva al vagone di raggiungere la fine del magnete e di uscire. Invece se il vagone all'inizio va più piano, e questo valore, vedremo, sarà intorno ai 9 cm al secondo, allora andando più piano non riuscirà più a sfuggire al magnete. Ma si fermerà proprio alla fine del magnete, dopo aver percorso una distanza pari a L. e infatti si vede anche nel grafico che questa curva rossa ha una pendenza iniziale, V0 segnato, che è minore di V0, proprio perché sta a indicare una minore velocità d'ingresso del vagone nel campo del magnete. Qui ci sono i calcoli, questa è la posizione in funzione del tempo, il limite asintotico vuol dire che facciamo scorrere il tempo fino all'infinito, allora questo esponenziale diventa 0 e la posizione limite diventa V0 su K, quello che abbiamo chiamato X segnato. Come detto poco fa, dobbiamo porre questa posizione asintotica, questa posizione limite uguale a L, cioè uguale a 5 cm, e ricavare in questo modo V0 segnato. Quindi V0 su K uguale a L, ricaviamo V0, che è quella velocità d'ingresso che fa fermare il vagone dopo 5 cm, quindi alla fine del magnete. Questa velocità d'ingresso incognita la chiamo V0 segnato, la ricavo banalmente sostituendo i valori numerici, e risulta, come detto prima, di circa 9 cm al secondo. Perciò se il treno entra nel campo del magnete con una velocità minore o anche uguale a 9 cm al secondo, si fermerà all'interno del magnete. Con una velocità di 9 cm al secondo, si ferma sul bordo finale del magnete. Con una velocità minore, 8, 7, 5, 2 cm al secondo, si fermerà in una posizione intermedia.